Alda Merini Tommaso I putti del Michelangelo sono uguali a Tommaso, anzi no, quelli del Raffaello. Sono putti rigogliosi e floridi come i fiori del Rinascimento, leggermente peccaminosi, amici delle belle Signore, ispiratori di crimini amorosi e di bei libri. Sono i putti che guardano dalle nuvole del cielo e che non fanno mai pipì, perché a questi putti non importa che due corpi si intrecino o meno nell'amore. A questi angioletti i guardoni importano molto i fattacci dell'anima. E io al piccolo Tommaso di fattacci dell'anima ne ho raccontati molti. È incredibile, ma se avessi detto al portinaio che amavo padre Riccardo, questi avrebbe potuto morirne. Invece il piccolo Tommaso, che ha capito la solfa, ci ha mangiato su una banana perché una volta successe una cosa strana. Due che si stavano spiando da anni abbandonarono figli e mogli per imbracciare il fucile. Uno dei due, vinto dalla stanchezza, un giorno abbandonò il fucile e perse di vista l'avversario. L'altro ne approfittò per ucciderlo. Finito l'erroneo assassinio, un putto bello come Tommaso entrò nella stanza, raccolse la pistola scarica e la caricò ad acqua.